Artmap.tv, siamo in compagnia di Leandro Amstel Grasso e Irina Montehan della Amstel Art Gallery di Londra. Come nasce la vostra galleria? Allora, la nostra galleria nasce nel 2008 a Milano, in Viale Campania. Un piccolo spazio nato, come dire, frutto della passione. Io sono un collezionista, un appassionato del mondo dell'arte e nel 2008 decido di mettermi in proprio, nonostante sia un momento di crisi economica, sfido, come dire, il momento e apro la galleria, la Amstel Gallery. Dopodiché, poi, nel corso degli anni, dopo quattro anni, abbiamo deciso di spostarci nella città, come dire, capitale europea dell'arte, ovvero Londra. Cosa può dirci dell'artista Stefano Bressani? Allora, Stefano Bressani è la nostra new entry, il nuovo artista dell'Amstel Gallery. È un artista molto interessante, innanzitutto per la sua tecnica, una tecnica unica, mai vista prima. Lui utilizza le stoffe e i tessuti per parlare al pubblico e, in un blocco unico, realizza le sue sculture vestite, come chiamarle. Ovvero, delle sculture vestite con dei tessuti pregiati, dei tessuti uniti, senza cuciture, senza colla, ma con questa sua tecnica particolarissima, come dire, l'incastra, creando questo particolare oggetto, sia di arredimento che di arte, di bellezza. Le mie sculture, appunto, partono da vestiti. Infatti si chiamano sculture vestite, ma perché io compro abbigliamento e utilizzo l'abbigliamento per vestire le mie sculture. La nascita parte da una fotografia, quindi utilizzo questa fotografia per esprimere un concetto che voglio andare a rendere noto, ovviamente, ai fruttori dell'arte che stanno davanti alle mie opere. E, diciamo che è tutto un lavoro di ricerca, non tanto dei materiali, appunto, dei vestiti, ma di come disporre le fibre dei tessuti, perché nella mia tecnica non c'è niente né di incollato né di cucito, è tutto incastrato. Quindi io utilizzo, ovviamente, su basi anatomiche, fisionomiche e basi prospettiche, la tecnica di come andare a disporre le fibre dei tessuti per quanto riguarda gli oggetti o i soggetti, insomma. Dove prende l'ispirazione per le sue opere? L'ispirazione per me, diciamo, forse è più facile che per altri artisti, perché la prendo dal mondo che mi circonda. Partendo dalla fotografia, appunto, come dicevo, utilizzo la fotografia per esprimere un concetto, quindi vado a cercare qualcosa da fotografare per esprimere una mia idea. E, diciamo che ogni volta, a differenza dell'ansia da carta bianca, io partendo dalla fotografia, forse sono più avvantaggiato perché ho già un tema di cui parlare che ho scelto in precedenza. Come sceglie gli artisti che espone nella galleria? Ma sicuramente l'emozione, la passione, l'impatto per noi è importante. Infatti l'artista chiave della nostra galleria, di cui quest'anno abbiamo anche poi preso l'archivio generale, è Marco Lodola, che con la sua luce, i suoi colori, come dire, ci ha attirato, ci ha coinvolto, ci ha appassionato e ha fatto poi andare avanti la galleria Amstel in questi anni. Secondo lei, il circuito di Affordable Art Fair, quali vantaggi offre ad una galleria? Ma sicuramente in questo momento così particolare, in questa congiuntura che stiamo vivendo, Affordable Art Fair riesce a coinvolgere un pubblico anche più giovane, un pubblico, anche come dire, neofita del mondo dell'arte. Avendo un target mirato, preciso, da 100 euro fino a 5.000 euro, chiunque in realtà con un piccolo sforzo può avere un'opera unica, un pezzo unico di un artista comunque sia emergente che affermato, senza doversi, come dire, sforzare troppo, senza dover investire grosse cifre.